Volete realizzare questo fantastico bastone da selfie con 0 euro per stupire i vostri amici di Facebook? Bene, questo è il tutorial giusto! Bene, passiamo ora alla parte tecnica. Per fare il bastone per i nostri selfie avremo bisogno di una cagna chiamata anche pappagallo o tenaglia regolabile come questa che dovrà essere circa 50 cm di lunghezza, molto pesante e possibilmente arrugginita o molto rovinata. Poi andremo a costruirci due guarnizioni ritagliando della camera d'aria da bicicletta o da Vespa e quest'ultima le utilizzeremo come guarnizioni protettive da mettere sul becco della cagna. Infine avremo bisogno di un telefono leggendario, ovvero questo Nokia 3310 non più funzionante purtroppo perché la batteria all'epoca mi era finita in lavatrice e dopo aver fatto la centrifuga ha funzionato circa per un mese poi si è ossidata definitivamente e è passata a miglior vita. Bene, una volta che abbiamo posizionato il nostro leggendario cellulare sulla cagna potremo iniziare a farci i nostri selfie. Grazie. Grazie. Grazie.